La verità è che sei qui sia per illuminare o scoraggiare. La forza del sadismo di questo mondo hanno intontito l'umanità, hanno pervertito la scienza per nascondere la vera forma della terra, pervertito la religione per possedere e sviare le masse, hanno venduto un sacco di menzogne preconfezionate sulla storia, corrotto gli ordini segreti intesi per custodire la luce, distrutto il sistema del vecchio mondo, seppellito le tradizioni, permettendo situazioni contro purezza e verità, indottrinato le menti dei giovani attraverso la manipolazione del sistema educativo, avvelenato la terra, avvelenato il cibo, avvelenato il cielo, avvelenato l'acqua. Perché? 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 Perché continuano a fare questo? Quale pazzia? Quale demenza? Che modo psicopatico possiedono? Qual è veramente il loro fine? L'esistenza, almeno per quanto riguarda il dramma dell'umanità a cui è unicamente interessata, mantiene la sua principale funzionalità come il luogo in cui l'essenza del creatore è rigenerata continuamente in forma materiale, espressamente per subire il processo del miglioramento karmico. Questo miglioramento karmico alla fine conduce alla riunificazione col creatore ed è questo il processo per cui coloro che sono intossicati dal potere lottano per il controllo. E noi persone di questa terra non possiamo permettere che ciò possa continuare a succedere ancora a lungo. Non partecipate con i compagni alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto biosimatele. Efesini 5.11. C'è solo una soluzione per i nostri danni e i nostri problemi. C'è solo un rimedio per le nostre malattie collettive. C'è solo un modo per uscire da questa confusione dove ci troviamo dentro. E questo è impiegare ed usare l'onnipotente e onnicomprensiva forza del grande spirito. L'unità. Questo non significa che tutti quanti dobbiamo stare insieme tenendoci per mano e cantare Kumbaya, mio signore. No, ovviamente no. L'individualità si festeggia all'interno del grande progetto artistico universale e la separazione volontaria o segregazione sociale, religiosa e culturale non è necessariamente qualcosa da disapprovare. L'unità in nessuna forma o modello richiede una assimilazione non desiderata di idee, credo o fiducia, oppressioni delle persone contro la nostra volontà. Essere solitario non è rinnegare l'unità, significa semplicemente un aspetto separato dell'individuo e del grande insieme. L'unità è la forza più potente dell'universo. Non è rinnegare l'unità, non è rinnegare l'unità. L'unità, non è rinnegare l'unità, non è rinnegare l'unità. Se l'umanità supera il calvario dove ci troviamo, immerso continuamente in una cascata di menzogna e corruzione, dobbiamo essere disposti ad agire in unità, vivere in armonia con madre natura, rispettare ed ubbidire alla legge naturale, coesistere incuranti delle nostre differenze, assumere la nostra propria responsabilità e sostenere gli standard morali più elevati. infatti, noi persone di questa terra dobbiamo creare il nuovo ordine mondiale. Ma che diavolo hai voluto dire? Ora cerchiamo di essere chiari. Il nuovo ordine mondiale di cui sto parlando non è quello che conosciamo, tipo questi esseri inutili che sognano. No, grazie. C'è un solo ordine mondiale che l'umanità deve formare. Queste sono le leggi e gli ordini che ci sono presentati dalla stessa madre natura. Le leggi di madre natura sono infatti le leggi scritte da Dio. E queste leggi immutabili, scritte nel tessuto dell'esistenza, sono le uniche leggi che l'uomo deve rispettare. Il grande esoterista Manley Palmer Hall descrive l'importanza di queste leggi riconosciute attraverso la storia. Se assumiamo quello che le antiche saggette hanno assunto, quello che conoscevano gli hindui, i cinesi, i greci e gli egiziani, 5.000 anni fa, erano ben consapevoli di questo e ci hanno lasciato delle buone eredità, delle loro consapevolezze. E quando si dice che l'uomo ha disubbidito agli dei, non significa che va contro le parole di qualche Dio minore sul trono. Disubbidire alla parola di Dio, al volere di Dio, significa sempre rompere le leggi naturali. Questo è quello che ha significato e che significa sempre. Tuttavia un'offesa contro la legge naturale è un'offesa contro Dio. Gli antichi erano completamente consapevoli di questo, che le leggi della natura sono le sgorganti espressioni del volere del creatore. Questo era il credo di Pitagora, era il credo di Buddha. È il grande fardello morale delle istituzioni di Manu che esistono queste grandi leggi alle quali bisogna obbedire. Abbiamo davanti a noi l'opportunità di forgiare il nuovo ordine mondiale, un ordine governato dalla legge, non la legge della giungla, governi che conducono nazioni. George Bush. Sono queste leggi naturali che George Bush ha disprezzato quando le ha reputate leggi della giungla. Le leggi garantite da Dio saranno rimpiazzate da queste leggi sognate dagli uomini i quali hanno coscientemente deciso di sovvertire i comandamenti del creatore. L'etimologia della parola governamento è stata ben stabilita, dove governo significa controllare o guidare e ment deriva dal latino che significa mente. Pertanto la diretta decostruzione etimologica della parola governamento produce il termine controllo mentale. Non è quindi colpa della ragione o della logica ritenere che sia interamente il governo, per definizione una psyops o operazione psicologica. C'è solo una vera forza autorevole che il gruppo deve rispettare e si trova nelle forze naturali che governano questo mondo. Questa assoluta verità non ha segreti per gli innumerevoli nativi e le tribù di aborigini su questa sacra terra. L'uomo dal nulla ha creato un'organizzata pseudo-autorità, gli ha garantito potere per rinforzare leggi immaginate ed ostentate dal vuoto e ha permesso a questa organizzazione di ingaggiare le azioni di violenza più elevate per rinforzare queste leggi escogitate, innaturali. Queste leggi non esistono in nessuna parte del vento che soffia, nelle piante che si slangiano verso il cielo, negli animali che vagano, nei fiumi che serpeggiano e nelle montagne che torreggiano lassù. L'uomo non può creare leggi che non esistono dentro l'ordine naturale. Con questo potere che sogna, sognando ha creato un incubo nel suo mondo da sveglio. Quando l'uomo crea leggi false è la prima ingiustizia verso se stesso ed il suo mondo, dove rompe le leggi del grande spirito. Vai, giovane cercatore, vai, scava, scava a fondo attraverso il mondo nascosto. Vai come un minatore, uno speleologo a cercare quello che è stato nascosto. Una volta che sai questo, più ti addentri nell'oscurità, più avrai bisogno di luce. Claudia Pavonis Storicamente è ben risaputo che molti leader religiosi di governo hanno albergato conoscenza e luce, mentre simultaneamente diffondevano menzogne, inganni e tenebre alle masse. E queste azioni continuano oggigiorno. È da questi atti che la bellezza potenziale viene trasformata cineticamente in negativo, la quale crea direttamente disarmonia, dissonanza e conflitti all'attuale umanità con le situazioni e le sfide terrene. È un triste fatto che fa riflettere che i mercanti, i diavoletti della corruzione e dell'inganno sono al lavoro da molto tempo per distruggere ciò che è bello e sacro. Sfortunatamente questi agenti malvagi oggi prosperano nel nostro mondo. La riunificazione delle persone di questa terra con la ristrutturazione dei nostri diritti naturali donati da Dio, indipendentemente da tutto quanto assunto ed immaginato dalla pseudo-autorità, è il primo passo per guarire veramente questa terra e permettere alla nostra innata e radicata libertà e divinità di prosperare e svilupparsi. Nella tradizione mistica era ben risaputo che il mondo in cui abitiamo attualmente è costruito col principio della riflessione. L'uomo e la sua elevata consapevolezza non hanno solo l'abilità di riflettere sul mondo vivente e di navigare attraverso lo spazio tridimensionale, ma gli è stato dato anche il dono di riflettere contemplativamente su questa riflessione. La simmetria e il riflesso del nostro mondo ci forniscono indicazioni del nostro ruolo qui ed anche la nostra lingua esprime questi indizi abbastanza sublimemente. Vivere è sperimentare il male. La dimensione più bassa dell'esperienza materiale terrena è quella impregnata nell'illusoria separazione dalla fonte e dall'onnicomprensivo amore e interezza del grande spirito. Nelle più alte dimensioni del cielo, la malvagità di questo mondo, di questi esseri e cose quali ignoranza, gelosia, odio, avidità e bigotteria semplicemente non esistono. Queste gravose e pesanti prove egoiche esistono solo qui, sulla terra, e solo questo fatto presenta all'uomo una grande intuizione sulla via del suo lavoro spirituale e più avanti chiarisce la sua più grande sfida. Se hai vissuto, hai sperimentato, hai testimoniato e sei stato al corrente delle opere del diavolo, capire questo permette il tuo proposito di ricerca con l'obiettivo di diventare chiaro e cristallino. Vivi pienamente la tua vita. Distruggi il male del tuo mondo. Trova il drago infernale che ti tiene lontano dal tuo centro e mozzagli la sua dannata testa.